Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dal questore della provincia di Salerno, in questo fine settimana sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impegnati 55 equipaggi e 119 agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale del Reparto di Prevenzione Criminale Basilicata con i seguenti risultati operativi. Veicoli controllati 189, persone controllate 403, persone denunciate 5, di cui 3 per l'inosservanza al divito di ritorno nel comune di Salerno, una per resistenza pubblico ufficiale, una per minacce gravi e danneggiamento, contravenzione al codice della strada 14, stupefacente sequestrato grammi 25 di marijuana, esercizi pubblici controllati 2, posti di blocco di controllo 42.